Parlerò di questo argomento estremamente complesso che sono i processi cognitivi umani e la memoria e noi siamo per esempio bombardati quotidianamente da una quantità enorme di informazioni, queste informazioni sono in questo momento tutte relative al covid e a questo tipo di pandemia a cui assistiamo. Che cosa succede? Succede che noi di solito queste informazioni, le varie, con versioni diverse eccetera, fondamentalmente le ignoriamo e prendiamo soltanto gli elementi che per noi sono fondamentali e in base a questi poi noi valutiamo la situazione e decidiamo anche i nostri comportamenti, decidiamo mascherina sì, mascherina no, distanziamento sociale sì, distanziamento sociale no. E questo perché non è necessariamente una colpa, certamente può creare dei problemi se uno non porta la mascherina nel momento giusto oppure se non si distanzia adeguatamente dall'altro nel momento in cui potrebbe essere contagiato. Ma questo succede perché normalmente il sistema cognitivo umano predilige tra la semplicità e la complessità, predilige la semplicità. E predilige la semplicità per un motivo molto semplice, perché il pensiero complesso è un pensiero che richiede risorse, è un pensiero che utilizza risorse cognitive. Le risorse cognitive non sono infinite, ne abbiamo una quantità relativamente limitata e quindi il sistema cognitivo sceglie tra le varie possibilità il tipo di pensiero, il tipo di ragionamento, il tipo di soluzione che è la più semplice, la più immediata. Quando parliamo di questi due sistemi di pensiero, pensiero complesso e pensiero semplice, in realtà tutto sommato ci possiamo riferire a una divisione che era stata già operata in maniera scientifica da Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, uno dei due premi Nobel per l'economia per ricerche in psicologia, il quale aveva distinto un pensiero lento che per l'appunto è il pensiero complesso e questo pensiero lento è lento perché? Perché è sistematico, è analitico, prende in esame tutti gli elementi di una situazione, li valuta, li soppesa e poi arriva a una decisione. Questo è un sistema intenzionale ed è un sistema estremamente potente, è un sistema estremamente potente che ci può portare a soluzioni incredibili come per esempio appunto ci ha portato, ci ha portato l'uomo a poter mandare una sonda spaziale su Marte, a poter mandare un drone che è riuscito a sollevarsi dal pianeta, dal suolo a Marte. Però appunto è un sistema che è impegnativo e allora quotidianamente qual è il tipo di pensiero che viene usato, è un tipo di pensiero in realtà semplice, è un pensiero rapido, è un pensiero che utilizza scorciatoie, è un pensiero di tipo intuitivo, è un pensiero di tipo inconsapevole nel senso che noi arriviamo a raggiungere delle conclusioni, a valutare delle situazioni senza sapere perché ci arriviamo e senza avere consapevolezza dei momenti, delle tappe che utilizziamo nell'arrivare a queste conclusioni. E questo tipo di pensiero è basato su precedenti, nel senso che se noi dobbiamo per esempio decidere quanto siamo disponibili a prendere un aereo dopo aver ricevuto informazioni positive di questo tipo, siamo molto più propensi appunto a prendere l'aereo rispetto a situazioni in cui invece ci presentano informazioni negative sulla pericolosità del prendere l'aereo. Chiunque di noi in queste condizioni darebbe delle risposte di tipo diversa. Ma questo sistema di pensiero è un sistema di pensiero anche estremamente potente, nel senso che è un sistema di pensiero che ci permette di negoziare la realtà tutti i giorni, è quel sistema di pensiero che ci permette per esempio di interagire col prossimo leggendo le emozioni nel prossimo, non soltanto le emozioni così visibili come per esempio la rabbia di questa prima persona, ma anche emozioni estremamente più sottili come per esempio la perplessità negli occhi di questa seconda persona. Ed è un sistema così potente perché ci permette di prendere decisioni rapidissime e la nostra vita, la nostra sopravvivenza dipendono da queste decisioni rapidissime. quindi evviva il pensiero semplice. Il problema è che il pensiero semplice in realtà ci dà anche degli errori e questi errori sono visibili per esempio nella nostra superficialità, nel comprendere affermazioni del tipo la variante indiana del SARS-CoV-19 è più pericolosa e lo prendiamo così al face value per quello che vale e ci crediamo senza chiederci cosa si intende con pericolosità, senza chiederci cosa si intende con più, cioè più pericolosa di che cosa, di quali altri varianti, di quali altre situazioni. Lo stesso tipo di pensiero semplice è quello che ci porta ad accettare per quello, per come vero, un'affermazione del tipo aiutiamoli a casa loro, riferito ai migranti. Ma per capire effettivamente un'affermazione del genere uno deve capire quali migranti, da quali paesi, con quali esigenze, con quali motivazioni, quali mezzi abbiamo per aiutarli. Quindi per capire anche affermazioni quotidiane di questo tipo in realtà abbiamo bisogno dell'intervento del sistema, di un sistema complesso. Il sistema semplice, questo sistema uno, questo sistema rapido ci porta a fare errori e la ricerca in psicologia in realtà ha illustrato moltissimi degli errori che vengono fatti, le fallace della logica per esempio e proprio gli errori di base che vengono fatti poi, che vengono fatti nelle decisioni. Lo stesso tipo di sistema di pensiero semplice e rapido è quello che poi ci porta ad accettare così la verità di affermazione del tipo ricordo bene la grigliata che abbiamo fatto il luglio scorso, oppure un testimone che può dire ricordo di aver visto un uomo alto con i capelli brizzolati e corti che stava spingendo un carrello. E noi crediamo nella verità di questo tipo di affermazioni. Fondamentalmente crediamo nel fatto che quando una persona dice mi ricordo e quando una persona dice vedo, dice delle cose che sono, parla di cose che sono effettivamente accadute. E quindi noi abbiamo un senso della realtà degli avvenimenti che vengono raccontati, che vengono riportati anche dai testimoni. Ma questa sensazione della realtà è una sensazione che sta veramente in piedi? È una sensazione che la ricerca in psicologia dice essere giustificata? Ebbene la ricerca in psicologia in realtà ha messo in luce il fatto che non soltanto per esempio la nostra memoria è fallace perché noi dimentichiamo, ma ha anche messo in luce il fatto che la nostra memoria è fallace perché noi ricordiamo delle cose che non sono successe. Questa idea che quello che ricordiamo è vero è basata su una metafora che noi abbiamo della memoria, per cui la memoria è fondamentalmente una videocamera che registra le informazioni e questa informazione successivamente può essere recuperata. E la stessa cosa in realtà veniva detta anche anticamente da Aristotele che dice la memoria non è altro che un sigillo che l'esperienza lascia nella mente, per cui il ripercorrere questo sigillo permette di ripercorrere l'esperienza fatta. Ma in realtà, come dicevo, la ricerca in memoria dice che no, i nostri ricordi non sono assolutamente il ripercorrere un'esperienza fatta, i nostri ricordi sono ricostruttivi e sono altamente potenzialmente inaccurati. Che cos'è che rende un ricordo inaccurato? Suggerimenti, quello che ci viene detto. Qua c'è un esempio di un esperimento molto molto vecchio, ma ce ne sono centinaia di altri, che ci dicono che, per esempio, se certi termini che vengono utilizzati all'interno delle domande modificano il ricordo. Le persone che hanno assistito a un incidente a cui viene chiesto di dire il colore delle auto che si sono toccate frontalmente ricorderanno un incidente di bassa media entità. Le persone a cui si chiede, si fa la stessa domanda, ma si sostituisce il toccate frontalmente con il scontrate frontalmente, ricordano un incidente estremamente più grave. Che cos'altro modifica i nostri ricordi? Ricorda un incidente di questo tipo. Cos'altro modifica i nostri ricordi? I nostri processi stessi di pensiero. Noi ricordiamo cause non viste. Noi vediamo un effetto e inferiamo una causa, ma poi ce la ricordiamo come se l'avessimo vista. Questo è un altro esperimento, ancora negli inizi degli anni 2000. Venivano presentate delle slides in cui c'era una persona che faceva la spesa, poi la spesa cadeva in terra in modo rovinoso. Le persone non soltanto ricordavano queste slides che erano state presentate, ma ricordavano anche delle slides che non erano state presentate e che rappresentavano il momento precedente oppure la causa della caduta delle borse della spesa e lo ricordavano e lo ricordavano con certezza. La stessa cosa succede per esempio con le conseguenze delle azioni. Noi ricordiamo delle conseguenze non viste. Ricordiamo per esempio azioni, fine di azioni che noi non abbiamo visto. Se vediamo una donna che prende una bottiglia d'acqua, in realtà ricordiamo non soltanto questa fase dell'azione, ma ricordiamo anche la donna che beve dalla bottiglia, anche se in realtà non l'abbiamo mai vista e anche se la donna invece di bere avrebbe potuto tranquillamente versare l'acqua nel bicchiere. Quindi noi ricordiamo delle conseguenze, delle continuazioni non viste di azioni. Non soltanto ricordiamo, creiamo ricordi inaccurati in seguito a situazioni sperimentali, ma creiamo ricordi inaccurati in modo spontaneo. Durante l'infanzia creiamo una buona quantità di ricordi inaccurati, creiamo ricordi inaccurati di tutta una serie di situazioni che sono assolutamente impossibili e anche in parte bizzarre. Per esempio, persone si ricordano di volare con le ali, persone si ricordano di essere inseguiti dai dinosauri, persone si ricordano di essere stati, di aver visto degli angeli, gli angeli questa volta con le ali. Tutte queste cose sono cose oggettivamente impossibili, ma le persone, anche se poi diventano certe che naturalmente non hanno fatto queste esperienze, queste cose le ricordano con grande accuratezza e con grande dovizia di dettagli. La ricerca ha messo in piedi tutta una serie di procedure sperimentali per spiegare come le persone poi sviluppano ricordi falsi. In particolare la presenza di materiale visivo fa sviluppare ricordi falsi, ma anche i racconti che vengono fatti, il sentito dire e i pettegolezzi, tutti questi elementi creano anche loro ricordi falsi. Questo è un esempio, va bene, del motivo per cui questi ricordi si creano, perché quando si parla, quando si vedono immagini, in realtà uno si crea delle immagini mentali. Queste immagini mentali hanno delle caratteristiche tali da essere scambiate per ricordi, quindi per elementi che si riferiscono ad un'esperienza realmente fatta. In questo esperimento, ad esempio, abbiamo fatto immaginare dei soggetti una situazione che non era mai accaduta, quella di un'infermiera che a scuola aveva tagliato un pezzetto di pelle dal dito mignolo per poter capire se c'era stato contagio nucleare dopo Chernobyl. Ecco, le persone, una certa percentuale delle persone hanno ricordato questo avvenimento che non era assolutamente mai caduto in quanto tale a loro, con dovizia di particolari. Per esempio, questo soggetto che diceva era una stanza piccola e grigia, c'era una donna alta e bionda, c'era un forte odore di disinfettante, quindi anche con dettagli, anche dettagli sensoriali, di una situazione che non avevano vissuto. Allora, quindi questa idea che il ricordo rappresenta un'esperienza vera è una sensazione che in realtà è basata su un nostro approccio necessario al mondo che viene chiamato da alcuni realismo ingenuo. Cioè noi crediamo, come diceva Bertrand Russell, che l'erba sia verde, che le pietre siano dure, che la neve sia fredda. Ecco, questo, come ci dicono i fisici, di per sé non è vero. È l'interazione del nostro sistema sensoriale che ci permette di avere questo tipo di percezione e questo brevissimo esempio ce l'illustra. Noi vediamo queste fragole rosse, ma in realtà il colore delle fragole è esattamente quello di questo quadratino che vedete qua, cioè sono grigio-verdi. E non soltanto le fragole, ma anche la striscia sotto le fragole, noi la vediamo rossa, ma se io copro le fragole, quello che vediamo è il colore del quadratino, il quadratino, scusate, è il colore della striscia. La striscia è grigia e anche se copro con una maschera bianca, la striscia è grigia. Basta che io tolga le fragole, va bene? Sono queste nostre conoscenze che ci impongono il colore che poi noi vediamo. Quindi anche per la memoria, in realtà quello che guida questa nostra sensazione che il ricordo si riferisce a un'esperienza effettivamente fatta è in fondo questo realismo ingenuo, che ripeto, da una parte è necessario, dall'alza però crea delle illusioni di realtà quando la realtà in realtà non c'è. E allora appunto a cosa serve il pensiero complesso in questi casi? Il pensiero complesso è quello che sottostà alla ricerca in psicologia e poi anche alla ricerca nelle neuroscienze per capire come effettivamente il nostro sistema umano cognitivo, il nostro sistema di memoria funziona. Quindi noi sappiamo che i ricordi di base necessariamente riflettano la realtà, non per nulla siamo in grado di negoziare la realtà con successo tutti i giorni, ma in realtà i nostri ricordi non sono mai totalmente accurati. I nostri ricordi qualche volta sono anche completamente falsi. Perché allora questi ricordi inaccurati e falsi? Questi ricordi inaccurati e falsi dipendono dal fatto che il sistema cognitivo umano fondamentalmente è preposto a dare senso all'esperienza dell'oggi e a predire il futuro. E allora ha bisogno del passato naturalmente per dare questo senso di continuità e di stabilità e di esperienza precedente, ma ha bisogno anche di negoziare il presente, quindi di adattarsi al presente, quindi deve essere flessibile. E questa flessibilità è quella che produce gli errori di memoria. E quindi queste illusioni, questi errori di memoria sono normali, sono naturali, sono il risultato di come funziona il sistema cognitivo umano e sono in un qualche modo anche necessari. Sono necessari perché per l'appunto permettono all'uomo di vivere il qui e ora, utilizzando il passato, ma tenendo molto presente anche le proprie esigenze e il proprio scopo del momento. L'unico problema è nella testimonianza, nella testimonianza dove in realtà il ricordo deve essere accurato e corrispondere a verità. Ma lo sarà mai?